amici di region guest ben ritrovati siamo con il presidente dome aghe e savalon d'aur di lignano il presidente mario montrone presidente buongiorno buongiorno a tutti stiamo parlando di una delle attrazioni più suggestive e ormai anche famose del periodo natalizio della regione friuli venezia giulia non solo del presepe di sabbia a lignano sabbia d'oro presidente quando è nata e come nata questa bellissima iniziativa è nata addirittura nel 2004 quest'anno compiamo 18 anni raggiungiamo la maggior età è nato da un gruppo di persone di lignano che amano la propria città che è bellissima anche d'inverno sicuri che si potesse fare anche qualcosa di bello per la gente anche nel periodo che sembra la città sia assolutamente una città fantasma non è assolutamente vero cercavamo solo uno spunto avevamo cercato di fare varie iniziative un presepe di legno trentino varie iniziative che però non riuscivano a far portare un po di gente a lignano invece questa idea del presepe di sabbia nata in una notte di novembre cercando degli artisti che venisse a fare il presepe è stata poi l'idea che si è rivelata assolutamente giusta 2004 in un giorno in una notte è stato fatto un presepe di due metri quadri ero già da lì la gente che è venuta a trovarci per questa che era una grossissima novità è stata tantissima ma soprattutto ricordiamo a noi ci interessava che la comunità di lignano avesse un momento dove ritrovarsi da quel momento lì è fra virgolette esploso un po tutto e soprattutto la grande soddisfazione oltre a quello del livello turistico del presepe è quello che la gente di lignano sta insieme per venti giorni in piazza ecco ricordiamo che lignano sabbiador come anche altre città di mare ha un'anima anche invernale ed è anche molto suggestiva e lasciamoci dire anche romantica perché il mare le emozioni anche d'inverno ora il presepe di sabbia quanti metri quadrati a ecco dicevo siamo perditi nel 2004 con due metri quadri di presepe oggi siamo a oltre 600 metri quadri della struttura che ospita il presepe ci sono oltre 350 metri cubi di sabbia sono tantissimi e vuol dire che ci sono oltre 14 sculture molto grandi all'interno della struttura struttura che abbiamo anche voluto ampliare da due anni da 400 600 metri quadri perché visto il periodo in cui siamo volevamo poter far sì che le persone visitassero in assolutamente in assoluta tranquillità distanziati e potessero vedere in maniera ottima queste opere e quindi quest'anno abbiamo una delle più grosse dal punto di vista della quantità di sabbia scolpita manifestazione delle presepe di sabbia quindi sicuramente siamo molto felici del risultato che stiamo ottenendo io l'ho visitato alcuni anni fa veramente bellissimo e lo consiglio quando si entra si ha proprio veramente la sensazione di entrare in un altro mondo e con queste sculture che si fa quasi fatica a vedere a che a capire che siano di sabbia perché sembra quasi fatto con un materiale plastico in realtà sono fatte in modo perfetto ecco chi è di chi sono queste mani preziose gli artisti che ci lavorano bravo immagino le ore di lavoro chi sono gli artisti sono intanto sono diretti dal presidente dell'academia della sabbia di rom antonio molin che è la persona che 18 anni fa scommesso su di noi perché lui faceva il presepe a rimini dopodiché ha abbandonato visto il successo anche di persone che gli danno una mano e comunque il successo dei visitatori che vengono a Lignano lui è quello che poi decide gli artisti in questi anni si sono ovviamente succeduti artisti di tutto tutta l'europa soprattutto ma anche del mondo abbiamo avuto americani abbiamo avuto russi adesso fino al 2019 avevamo artisti olandesi un artista della turchia un artista portoghese tantissimi ovviamente questo periodo qua di epidemia ha fatto sì che quest'anno oltre gli artisti di roma c'erano gli artisti una bravissima ragazza charlotte di olandese e però abbiamo scoperto anche degli artisti italiani eccezionali come mario vittadello e sua moglie scrivante ornella di padova che veramente hanno fatto in questi due anni dove gli altri non potevano venire a raggiungerci hanno fatto veramente delle cose straordinarie il presepe di sabbia di Lignano devo dire che questa è una cosa che mi riempie di orgoglio è l'unico presepe in italia di quelle che ci sono di sabbia che è fatto assolutamente ed esclusivamente di sabbia perché siamo nella spiaggia il nostro tendone montato in spiaggia la sabbia che arriva durante la preparazione è sabbia che viene presa semplicemente fuori dal tendone perché la sabbia di Lignano ha detto degli artisti è una sabbia assolutamente molto molto bella da scolpire ci aiuta il tagliamento che qua vicino che porta giù una sabbia molto calcarea che è più facile da lavorare non è facile lavorare è più facile da lavorare molto spesso la domanda che ci viene fatta è ma quale anima di ferro quale collante quale calce viene messa per questo ci chiamiamo nomeaga e savalondau solo acqua e sabbia d'oro perché la risposta dei 18 anni è sempre quella qui non c'è nulla solo acqua e sabbia d'oro di Lignano il trucco qual è il trucco è semplicemente che due mesi di lavoro il primo mese gli artisti comprimono la sabbia che arriva con le uspe dentro delle casse formi di legno comprimono la sabbia centimetro per centimetro lo dicevo ci sono 14 sculture ognuna di queste casse formi vanno via due tre giorni quindi 30 giorni di lavoro è questo lavoro di schiacciamento della sabbia vengono elevate le casse formi e lì incominciano invece arrivare gli artisti che scolpiscono un altro mese di lavoro questo è l'unico trucco che c'è alla base di un presepe che possa resistere 60 giorni poi abbiamo la fortuna di essere in spiaggia e quindi l'umidità serale fa sì che le sculture si bagnino da sole durante la notte quindi non abbiamo bisogno di fare alcuna manutenzione me lo lasci dire era un sogno del destino che Lignano sabbia d'oro avesse ovviamente con questo nome un presepe di sabbia unico in italia ma uno degli unici ovviamente al mondo anche grazie agli artisti che ci hanno lavorato il presepe si trova zona terrazza mare dico rega se sbaglio attorno c'è tutto un bel village un bel villaggio natalizio che Lignano ha proposto per il periodo 2021-2022 giusto finalmente dopo vari anni da oltre tre quattro anni il presepe di sabbia è l'evento diciamo che fa da traino a questa manifestazione ma intorno si sono create tantissime iniziative per merito dell'amministrazione comunale e soprattutto della società d'are la lisa gest che ha creato anche quest'anno una serie di mercatini e di food al centro di Lignano dove appunto ci sono ci si può divertire a mangiare tutto quello che si vuole si possono vedere i mercatini di natale si sta anche al caldo perché tutto all'interno di tendoni che possono essere scaldati con dei funghi quindi intorno al presepe si sono create tantissime cose soprattutto per i più piccoli ricordo che ci sono le giostre vicino alla chiesa di Lignano che c'è la pista di bradinaggio di ghiaccio vero sempre vicino alla chiesa di Lignano quindi tutto il centro di Lignano è a disposizione dei visitatori dei bambini che vogliono passare delle ore in questa magica città come dicevamo prima è una città che molti pensano fantasma invece d'inverno è ancora più bella che d'estate d'estate fa parte della nostra vita del nostro lavoro però dopo d'inverno abbiamo voglia e bisogno di stare insieme anche con la gente che viene giù da tutta ormai da tutto il Trivenetro e anche oltre soprattutto dall'Austria quest'anno abbiamo un boom di austriaci che ci sta visitando sempre più numerosi noi vi facciamo i complimenti e consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori e non di far presa di Lignano anche perché è una boccata d'aria d'inverno fa molto bene e c'è la possibilità di emozionarsi veramente grazie al presepe ma poi di vivere una città che forse alcuni sono abituati a viverla soltanto d'estate e c'è una bella vita anche d'inverno una cosa che volevo solo aggiungere se mi permetti dopo 15 anni di presepi caratteristici abbiamo cambiato dal 2016 totalmente ottica nel senso che abbiamo cercato di passare a un presepe che dia un segno un modo di pensare e quindi il presepe di Lignano ha cercato nei vari anni di cambiare e di lanciare dei messaggi quest'anno l'abbiamo dedicato alla Divina Commedia può sembrare una cosa un po' lontana da un presepe vedete che c'è una natività stupenda che ovviamente è collocata nel paradiso perché abbiamo fatto l'inferno abbiamo fatto il purgatorio invece questa splendida natività nel paradiso siamo quindi un presepe ma un presepe che vuole lasciare un messaggio un qualche cosa che uno torna a casa e dice ma che cosa volevano dire e questo è quello che ci permette dopo 18 anni ancora di lavorare tutti assieme per questo magico presepe noi facciamo i complimenti di buon lavoro e ovviamente gli auguri di buone feste e buon Natale grazie presidente Mario Montroni grazie mille anche voi grazie di averci ospitato